Oggi parliamo, signori, di skyrocket. Cosa vorrà mai dire skyrocket? Sembro fantozio. Cosa vuol dire skyrocket? Allora, skyrocket come nome, come sostantivo, è un razzo. Ragazzi, punto. Che va nel cielo, skyrocket. Fine. Fini. Capì? Ma se lo usiamo come verbo, to skyrocket, vuol dire aumentare precipitativamente, capito? Aumentare velocemente. People struggle to pay rent and unemployment skyrockets. Ok, quindi parlando adesso dell'economia, vista la situazione in cui siamo, le persone struggle, le persone fanno fatica a pagare l'affitto e l'unemployment e la disoccupazione skyrockets. Cioè aumenta velocissimamente, all'impazzata. Ok? Skyrockets. I've seen her career skyrocket over the past few years. Ho visto la carriera di lei skyrocket. Cioè aumentare velocissimamente negli ultimi anni. Housing prices have skyrocketed in recent months. Quindi i prezzi delle case sono aumentati all'impazzata ed have skyrocketed negli ultimi mesi. Marchissimamente negli ultimi aversi. Bi vibrationsi ne sono fused. Ci sono grandissimamente negli ultimi anni. Astabilità Heloti è rendita. Ai i miei. Grazie a tutti.